Nel registro degli indagati figurano già i primi quattro nomi, sono quelli del commissario straordinario dell'ospedale Giacomo Sampieri, dell'attuale primario della chirurgia plastica Matteo Tutino e ancora il direttore sanitario Maria Concetta Martorana e Damiano Mazzarese, in che invece è il primario del reparto di anestesia e rianimazione, ma è soprattutto la chirurgia plastica ad essere sotto i riflettori. Al centro delle indagini infatti ci sarebbero alcuni interventi effettuati dallo stesso Tutino, sospettato di avere camuffato quelle che erano in realtà semplici operazioni di estetica come interventi necessari e dunque rimborsabili dal servizio sanitario. In particolare gli investigatori si stanno concentrando su una decina di interventi, operazioni di rinoplastica dichiarate invece come settoplastiche e dunque rimborsabili oppure ancora l'iposuzione e riduzione del seno fatti passare come interventi funzionali. Gli accertamenti però potrebbero estendersi all'intera gestione dell'ospedale di Villa Sofia. I carabinieri del NAS ieri hanno sequestrato una grande quantità di documenti ma anche file e posta elettronica copiata dagli hard disk della direzione sanitaria. La procura ipotizza reati di peculato, truffa e abuso d'ufficio. A dare il via alle indagini le denunce incrociate di diversi medici tra cui lo stesso Tutino entrato in servizio a settembre che denunciava furti in reparto e intimidazioni come l'attac trovato sulla serratura della sua stanza in ospedale. Episodi sullo sfondo di conflitti professionali anche molto aspri innescati dalla scelta di Tutino considerato vicino al governatore Crocetta per guidare il reparto. Non è un caso dunque se gli uomini del NAS stanno valutando anche i titoli che hanno portato a quella nomina.